Non credi che la rivalità tra CM Punk e Drew McIntyre sia un po' rischiosa e che sarà difficile far perdere uno dei due? Allora, Moise, sicuramente è rischiosa. E sicuramente sarà su più match, credo. Almeno si presta ad un trittico a salire. E lo sconfitto finale farà venire la rabbia a qualcuno, indubbiamente. Voi chi fareste perdere? Drew McIntyre? Questo Drew McIntyre che sta facendo cose ottime, paradisiache, sia nel ring che al microfono, o sia in punk, che è un investimento sul quale devi ancora mungere e capitalizzare. Dopo che l'hai riportato in WWE e lui, sciaguratamente, si è quasi subito infortunato. E poi c'è la questione tifo. Però ti dico una cosa che secondo me non è scontata. Ben vengano questi match o queste rivalità dove chi perde rischia qualcosa. Dove non sai o non riesci subito a prevedere chi la spunterà. Perché WWE ci ha dato anche delle rivalità dove chi ha vinto, di alto livello come questa, chi ha vinto poi non è andato a sfidare per il titolo, ma si è trovato coinvolto in una storia diversa e un gradino più in basso. Mentre chi ha perso poi invece è andato a sfidare per il titolo. Edge, Seth Rollins, vi dice qualcosa? Quindi non è che chi vince diventa automaticamente force contender. E anche questo, tutto sommato, aumenta l'incertezza. E io sono felice che ci siano match così. Sono galvanizzanti. È il bello del wrestling. L'avere cose non scontate. L'avere incontri che faranno parlare. Verdetti che faranno discutere. Alla fine stiamo parlando dell'aria fritta, perché è wrestling, è un mondo di fantasia. Ma se crei la magia in questo modo, tu dalla disciplina trai dei benefici, stai meglio, ti diverti, sei coinvolto, parteggi nella maniera sana. Quindi benissimo, anzi, ci metto la firma che ci siano match così, rischiosi, nei quali devi far perdere qualcuno e ce l'hai lì. Chi è tra i due? Quindi sono contento che ci sia questa rivalità che ha permesso e sta permettendo a CM Punk di tornare a brillare in WWE. E a Drew McIntyre di far vedere che è capace, molto più che capace, in un fondamentale, quello microfonico, nel quale per anni in tanti hanno detto che era una pippa, che era una schiappa. E magari lo era. Ma con il tempo, con l'esperienza, è migliorato. E oggi per me Drew McIntyre è il miglior parlatore della WWE. Certo, uno mi dirà e The Rock? Beh, The Rock gioca una partita diversa. The Rock può dire parolacce, The Rock può fare quello che vuole, Drew McIntyre invece deve stare in determinate regole. Quindi non è lo stesso campionato. E questo personaggio, quello delle scomode verità, che dice apparentemente il vero, ma che cerca di modificarlo o di tirargli le orecchie per farlo aderire ai suoi desideri e alle sue volontà, per me, come diceva Dan Peterson, è fenomenale, ok? Quindi giù il cappello a Drew McIntyre e grande attesa per il primo match tra questi due.